Il sospetto che ci fosse una banda dietro ai furti delle macchinette nelle scuole è avvenuto a molti e forse grazie alle riprese della videosorveglianza dell'Istituto Enrico Fermi si potrà scoprire se l'ipotesi era reale. Infatti nella notte tra sabato e domenica i ladri si sono introdotti nell'Istituto Superiore di Via Carlo Piaggia a San Filippo sfondando 12 macchinette per le merende, forzando la cassa del bar contenente circa 300 euro in contanti ma non solo, rispetto ad analoghi furti che dall'inizio dell'anno si stanno costantemente verificando ad esempio a Giorgi sono già entrati ben quattro volte, stavolta i ladri si sono allontanati anche con cinque proiettori delle lavagne luminose LIM e due notebook che erano custoditi nell'ufficio tecnico un danno complessivo che ammonta svariate migliaia di euro. Ora siamo in attesa di avere i dati definitivi del sistema di videosorveglianza che già ad oggi ci ha dato alcune buone indicazioni quindi contiamo adesso con gli esperti di rilevare davvero dalle immagini che abbiamo gli autori di questo furto. I ladri sono passati da una porta sul reto dell'Istituto che dà sulla piscina ma stavolta per gli uomini della squadra mobile di Lucca potrebbero esserci le immagini per inchiodare i responsabili.